Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, volevo cambiare un po' l'intro quindi Oggi siamo nel quarto episodio dell'ABC dello spinning Come avrete letto dal titolo, oggi andiamo a parlare delle softbait e in particolare l'innesco e i vari tipi di utilizzo, quindi le varie montature per pescare a gomma Mi raccomando lasciate like, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Che siamo quasi a 2000 persone E dico siamo e non sono perché la parte principale del canale siete voi A meno che non li abbiamo già fatti perché sto registrando questo video mercoledì, siamo a 1987 e magari li abbiamo già passati quando state guardando questo video O probabilmente il giorno, non ne ho idea, non prevedo il futuro Rispondo velocemente a delle domande che mi state facendo nei commenti I pesci stanno bene, ne avevo già dato l'antibatterico, non l'ho detto, non pensavo mi interessava Stanno tutti bene, condizioni perfette e gli sto già facendo fare una dieta Qualcuno si è chiesto perché ho così tanti dislike, a quanto pare ci sono dei bambini che gli piace perdere tempo E sprecare la loro vita per mettere, aprire il mio video, mettere dislike e uscirsene così A quanto pare è il loro scopo della vita Oppure mettono dislike però si guardano tutto il video perché gli interessa sapere le cose Infatti come avete visto dallo scorso video Per fargli capire quanto poco me ne frega Ho tolto i mi piace e i non mi piace Perché intanto dei loro non mi piace me ne sbatto altamente Potete mettere tutti i dislike che volete, tanto non me ne frega niente Comunque ho preparato un paio di cose, nello speciale dei 2000 che vi andrò a parlare Credo prossima settimana, venerdì prossimo Ci sarà una cosa speciale per voi, quindi non perdetevi Inoltre non perdetevi il video di lunedì che si ritorna con Welcome to the Jungle E vi assicuro che quest'ottobre sarà un ottobre con i fiocchi Dunque credo di avervi annoiato abbastanza quindi passiamo al video vero e proprio Parliamo dell'innesco delle softbait Allora molti mi hanno fatto questa domanda Come la devo mettere, quanto l'amo in base all'esca eccetera eccetera Adesso andiamo a parlare precisamente Allora prendo un esempio di esca che uso Come vedete questo qua è l'innesco ideale, perfetto Potrei mettere una testina un pochino più lunga Che arrivi anche fino qua, poco prima della separazione della gomma Ma comunque così va benissimo Come vedete l'esca, la gomma, deve stare non in alto così Ne in basso così, deve stare giusta dritta E così si ha l'innesco perfetto Questo è l'innesco per una testina piombata Quindi adesso vi insegno una tecnica per rinescarla al meglio Se li mettete a confronto e portate a filo Ovvero dove si andrà a fermare la testa della gomma Potete trovare facilmente il punto qua Dove poco prima che l'amo inizi la curva Quindi in questo punto qua Prendete questo punto Lo tenete a mente E andate a infilare l'amo E lo fate uscire in quel punto Come vedete è perfetto Un altro innesco che andranno a utilizzare chi pesca basso Comunque anche chi pesca ultraleggero O anche si basse È questo, il Texas Texas Questa formazione così normale non è anti-alga Per portarlo anti-alga basta prendere la gomma Tirarla su sul lamo Prendere la gomma E infilare leggermente la punta Del lamo Nella gomma In modo che È anti-alga La punta del lamo non va a impigliarsi in tronchi Alga eccetera E quando il pesce mangia Abbasserà la gomma E uscirà l'amo Sempre parlando di Innesco Texas C'è ci sono questi lami qua Che sono offset Possono essere piombati Spiombati Con più o meno piombo E non andrà aggiunto un piombo in più Quindi il piombo che vi trovate sul lamo È l'unico peso Che deve esserci sulla lenza Hanno questa vitina Dove noi andremo a prendere la nostra gomma E metterla in punta E iniziare a girare questa gomma In questo modo Finché Il gancetto non arriva completamente dentro Come nel Texas Non sto a farvi l'esempio due volte Prendete la gomma Arrivate A questo punto qua Dovete Fare in modo che La punta del lamo Tocchi La gomma La infilate dentro E la fate uscire Quest'amo anche piccolo per l'esca Era solo per fare l'esempio Prendiamo un lamo Che può essere utilizzato a dropshot In genere sono di questa forma qua O un po' più fini I veri lami da dropshot In genere sono belli fini E Come forma Ma siamo simili a questa In genere un'esca dropshot Va innescata in questo modo Si prende l'esca Si mette l'amo al suo interno E lo si fa uscire subito dopo E Così In questo modo Deve starci solo un piccolo pezzo di gomma In modo che sia molto mobile E Perché nel dropshot Si va a fare questo movimento qua Quindi l'esca deve ondeggiare molto Infine l'ultimo innesco che potrebbe esserci L'innesco a bocchi Che potrebbe essere utilizzato anche con una testina piombata O anche con un piombo Direttamente sulla gomma Con i piombi adatti In genere o si prende riferimento Perché sono esche tipo i senco Quindi hanno già la parte rinforzata per metterli Oppure si va a prendere l'esca E si divide più o meno a metà E sulla metà Ci mettiamo il nostro amo Andiamo a parlare in particolare Dei tipi di tecnica Come prima cosa abbiamo le testine Qua come vedete Ho vari tipi di testina Abbiamo questa qua E Come proporzione rispetto all'esca Questa sarebbe una buona proporzione dell'amo Vedete Deve coprire il 70% in genere Il 50-70% All'incirca dell'esca Senza togliere mobilità all'esca Come vedete qua Rimane una piccola parte che non prende l'amo Circa il 40-50% Invece parlando della testina È una testina da dart Per pescare rock fishing Che io utilizzo Principalmente per andare a carpe In questo caso La testina Avendo una piombatura del genere Avendo un baricentro molto spostato in avanti Come vedete qua è l'attacco E qua è la fine della testa Andrà a fare questo lavoro qua Andrà molto come una freccetta Infatti dart È freccetta se non sbaglio In inglese E quindi anche il tipo di piombatura Andrà a influire Su il movimento della nostra esca Questa va bene per stare anche stand up Perché se abbiamo Fundali tipo sabbia o fango La testina andrà a impiantarsi In semi verticale 45 gradi più o meno Poi dipende Invece qua Come vedete Avendo una creaturina Praticamente tutto il corpo Ovvero parte inutile Che sta ferma È coperto praticamente Come vedete qua dal lamo Come vedete le parti mobili Non vengono intaccate Qua abbiamo un lamo Con apertura più grande Quindi adatto a pesci con bocca Un po' più grande Invece una testina così Va bene con pesci che hanno apparato Boccale più piccolo Questa è la testina di prima Pensate per esempio A un ghiuzzo per farmi un esempio Dato che queste sono da rock fishing Un ghiuzzo andrò meglio a superare Perché per allamarsi Mangerà probabilmente da dietro Un amo così Per lui è molto più facile da superare Quindi agganciarlo Che un amo un po' più grande Quindi deve aprire più la bocca E così In questo modo Avremo meno probabilità di agganciarlo Perché arriva qua e si blocca Magari si insospettisce Perché sente duro E non mangia più Qua invece abbiamo una testina Una round gig head Come detto in inglese O in gergo Ovvero Una testina Un amo con Una piombatura tonda Come vedete anche qua Molto sottile E questa invece di Stare a stand up Questa si appoggerà al fondo Sarà in questa maniera qua Magari con fondali morbidi Per motivi di Forza peso Si dovesse impiantare Ma solo in quel caso Qua invece abbiamo Una round gig head All'incirca Quella del primo esempio Questa ad esempio È una 3 grammi Però questa A differenza Di quella di poco fa È stand up Ovvero sta Quando è immobile Sta così Circa sui 30 gradi Queste testine Hanno una particolarità Di essere molto buone Per pescare in verticale Ovvero far saltellare L'esca O anche O per pescare anche Su rocce Questo in particolare Non è un amo Molto grande Qua ad esempio Ho altre gig head Per esempio Questa è una 3 grammi Però è un amo Molto più grande E sempre Con un amo più grande Una 3 e mezzo Come potete vedere La differenza Si nota Questo qua È quello più piccolo Vedete che Con una testina Con l'amo più grande Copre di più E se avete pesci Che mangia corto Vi consiglio Di utilizzare Un amo più lungo O accorciare Addirittura l'esca Io per il mio gusto Personale Sconsiglio Di prendere Le testine Che hanno Lo stopper qua In piombo Perché Io mi trovo male Mi rovinano l'esca Soprattutto con esche Un po' più piccole Qua infine Abbiamo un esempio Di Perfetto Connubio Tra Prendere più Esca possibile Però Non togliere La mobilità Della coda Infine ci sarebbero Anche testine Come questa Solo con Il Solo con l'anello In punta Che però Io non utilizzo Che sono più adatte Ad essere recuperate In superficie O a mezz'acqua Rispetto che al fondo Perché Perché sono state inventate così Andiamo a parlare Di una tecnica Che mi piace molto Quando pesca gomma Ovvero Dropshot Prima vi ho fatto vedere Un innesco Adesso vi faccio vedere Anche come si crea La montatura Qua ad esempio Abbiamo una mia montatura Abbiamo un amo A gambo lungo Perché Io utilizzo Ammi a gambo lungo Non so quanto si possa vedere Ecco qua l'amo Perché Adesso mi ando a spiegare Abbiamo L'esca E il piombo Qua abbiamo un 3 e mezzo Per esempio Allora Io utilizzo L'amo a gambo lungo A dropshot Soprattutto perché Vado a reali Perché Ho notato che Molto spesso Quando vado a reali I reali mangiano Molto corto E si rischia di perdere Molti Quindi Ho abbandonato Gli ami round Ovvero Quelli tondi Più corti Per pescare Con l'esca puntata Sull'amo Come ho fatto vedere In precedenza Per andare a un gambo Lungo Che prende molto Di più l'esca E quindi Prendere tutti i pesci Che mangiano Come detto prima Quindi bisogna Scegliere attentamente L'amo Adesso non ho neanche Piombi di dimensioni esagerate Comunque Un piombo da dropshot Che trovate anche scritto Se scrivete piombo da dropshot Vedrete com'è E' un piombino Che può essere tondo Ad esempio Qua a goccia Lungo a cilindro Ci sono vari tipi di piombo E hanno questo attacco Qui Con Una parte più grossa Che dopo si stringe In genere Il filo Va passato Sul buchetto Che c'è qua E dopo va portato in su In modo che Il filo Viene clippato Praticamente E non si muove Se andate a pescare Con piomi da dropshot Tipo dai 7 grammi Pescando con 0,18 0,20 Vi consiglio di fare il nodo Perché quelli Quei piomi da dropshot Sono fatti per 0,25 0,80 Quindi rischierete solo Di perdere il piombo Utilizzare anche piombi Normalissimi Che costano di meno E non cambia Cranche Adesso Io la montatura La faccio a modo mio Dopo non so Esattamente Quale sia Il vero e proprio Modo per farla Io utilizzo Un nodo Se me lo ricordo Durante l'editing Vi sto mettendo Il nome qua sotto Per fare questa montatura Dropshot Allora abbiamo bisogno Del filo Io utilizzo 0,18 Come sapete Che è molto resistente Da 5 kg Andiamo a prendere Il capo del filo Come vedete qua Ok Prendiamo il nostro nomo Ovviamente Gli ami per pescare La dropshot Devono essere con l'anello E non con la paletta Io utilizzo Questo nodo qua Prendo E infilo Il capo No Prendo e infilo Il filo Nell'anello Prendo circa Quei 40 cm Di filo Dalla fine Del filo Lo vado A reinserire dentro Arrivato a questo punto Faccio un asola Con le dita Prendo l'asola Faccio un nodo Semplice Dal nodo semplice L'asola che è uscita La vado a infilare Nell'amo E il gioco è fatto Dovrei anche bagnarlo Ma adesso non sto là A bagnarlo con la saliva E questo nodo Eccolo chiuso Sempre A dropshot E vi potete fidare Ecco qua L'amo Come vedete La posizione È quella giusta E con questa montatura Ci ho tirato fuori Come avete visto Che avete anche Di bella taglia Le ali di bella taglia E un sacco di pesci Questa montatura Ti va avanti Anche una giornata Se non pescate su zone Dove ci si può Impigliare facilmente Una volta fatto ciò Vado a mettere Il piombo Ad esempio questo E faccio lo stesso Nodo Che ho fatto In precedenza Sul lamo Ognuno Fa il nodo Che vuole Io consiglio questo Che mi trovo bene Lo faccio da un anno Ormai Non mi ha mai dato problemi È un nodo Che tiene tantissimo Che però Non mi ricordo il nome Nel momento Qua per esempio L'ho bagnato Ed eccolo qua Montatura Dropshot Vediamo Come potete vedere Dopo qualche Dopo 15-20 cm Sopra Ci vado a creare Un'asola Perché Da quest'asola Andrò A metter A collegarla Al mio moschettone Perché Non sto là A farlo Sulla lenza diretta Perché poi Vado sempre A cambiare Rischie Montature Eccetera Quindi Mi risparmia Molto tempo E posso anche Prepararmela Già a casa Comunque dopo Andate a tagliare Le eccedenze Ok Dopo cosa abbiamo Dropshot Un altro innesco Che però Non sto a farvi vedere Magari se trovo Metto un'immagine È il Carolina Rig Che è un innesco Che si usa Nel bus fishing Principalmente Dopo se altre applicazioni Non lo so Si può fare anche Con il light Questa montatura Si va a fare Con Con questa montatura Si va a pescare Molto più fluido C'è il movimento Dell'esca Un altro movimento Un po' più naturale Dove abbiamo La nostra Esca A Texas Innescata A Texas Uno spezzone Di filo Che può variare La lunghezza Una girellina Una perlina E Il piombo Proiettile Praticamente L'innesco Principe Della gomma Oltre il walkie È il Texas Sono gli inneschi Più usati Per il bus E sono anche Quelli più semplici E catturanti Rimanendo in tema Texas Come vedete Qua serve per Tenere l'esca E il modo giusto Di innescarlo È questo qua Nel Texas Può essere Sia spiombato Che piombato Il piombo Come sempre Ragionato Se devi andare Per esempio In cover Devi usare Più piombo Eccetera Come già detto In passato Cioè il piombo Va regolato In base a tot valori In base che riprendete Perché ho fatto anche La playlist Della pc Dello spinning Quindi Tutte le informazioni Che volete Per iniziare La spinning Sono in questa playlist Che metterò anche Fidemido Per il Texas rig Quindi ci servirà Lamo Ovviamente quello piombato Quindi il piombo A proiettile Che può essere Dai 5 grammi Se non sbaglio Fino Anche Ai 30 E oltre Non mi ricordo A quanto arrivino E per bloccare il piombo Ci vorrà uno stopperino Adatto al filo In genere qua Ci possono fare molti nodi Quindi non ve lo sto a far vedere Può essere usato Il nodo che ho fatto prima Può essere utilizzato Un nodo Che si usa In genere Per il larmi a paletta Ognuno fa un po' Quello che vuole Ci sono vari Tanti tipi di nodi Di congiunzione Quindi Ognuno va in base alla scelta Quale gli piace di più Quale Secondo lui Tiene di più Quindi Prima azione Mettere Lo stopperino Sul filo Poi Aggiungerci il piombo Che deve essere Rivolto così In questo verso Qua abbiamo Sopra abbiamo lo stopperino Abbiamo poi il piombo E l'amo Invece come Dicevo prima Quando abbiamo Un amo offset Che in genere Andrebbe usato Con le swing bait Tra virgolette Swing bait Shad Come viene detto in italiano In America Vengono definite Swing bait Perché sono Esche che nuotano In virgolette Tradotto dall'inglese Viene utilizzato Questo inesco Per farlo sembrare Più naturale Però in Italia Lo usiamo un po' Per tutto Vi vado a fare Un po' di coltura In America Shad Come magari Chi è già più esperto Sa Ci sono le colorazioni Ad esempio Per le esche Cioè Può essere Fire Tiger Può essere Watermelon Pumpkin Eccetera E c'è la colorazione Shad Perché In America C'è questo Pesce Che adesso Andrò a Riviecarvi Un'immagine Che può Ricordare Leggermente La cheppia A cui Gli hanno dato Il nome di Shad Quindi Quando noi Italiani Andiamo a Chiamarlo Un'esca Shad In verità Sarebbe Un pesce Loro Il quale Bass Si ciba Bass Anche Luci Se non sbaglio Sì Quindi Dire Shad Sarebbe Sbagliato Sarebbe più Corretto Dire swing bait Ma ormai Tutta l'Italia Dice così Infine Abbiamo I bottom jig Che al momento Non ho Devo procurarmeli Vi starò mettendo L'immagine È questa sfera Di piombo Con una clip Dove da una parte Si mette l'amo Che ho usato Tra virgolette Ho usato tantissimo Sto inverno E lo adoro Utilizzarlo A reali Dove si va A infilare l'amo E invece Abbiamo un'altra parte Che è disposta O sopra O leggermente Inclinata Verso avanti Dove Andrà ancorato Il nostro filo Questo innesco È molto utile Quando abbiamo Grosse correnti O profondità O entrambe E vogliamo utilizzare Comunque Esche molto piccole Quindi Basterà prendere Uno dei nostri Piccoli ami E metterlo Sul nostro Bottom jig Questo va a sostituire La jig head Ovvero La testina piombata Però Risulta con un movimento Molto più naturale Perché l'amo È libero di muoversi Quindi l'esca Quando lo andiamo a muovere Fa questo movimento qua Invece di un Classico movimento Un po' più Robotico Un po' più Seghetato Diciamo Della nostra jig head O testina piombata Dunque Spero di essere stato Abbastanza esotivo Spero vi sia piaciuto Chiedetemi altre cose Da portarmi in video Magari anche più di una Che così Non faccio un video Da un minuto Così non mi tocca fare Dieci video da un minuto Ma posso farne uno Bello conciso Quindi Fatemi tutte le domande Che volete Io magari Ve le porterò in due video O se è qualcosa Molto semplice Ve lo vado a spiegare Nei commenti Quindi commentate anche Come Se vi è piaciuto il video Se Quello che volete Mi raccomando Lasciate like Condividete il video Vi aspetto lunedì Per questo video è tutto Ciao a tutti 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 Ciao a tutti